Filippo Danello nacque a Belvedere Marittimo. Un piccolo paese calabrese, il primo gennaio 1943, ha cominciato a cantare ancora bambino nel convento dei Capuccini appena prima di emigrare a San Paolo del Brasile nel 1955. Ha iniziato la sua carriera come cantante professionista nel 1964, poiché come Dick Danello, con l'album Oreino da Juventude, pubblicato dal famoso disc giochi brasiliano Antonio Aguilare che ha contato con le partecipazioni di Sergio Reis, Osvips, Marcos Roberto e altri artisti brasiliani emergenti. Nel 1965 incide il suo primo EP nello studio gravo disc di Santos, con l'orchestra Elcio Alvarez e il gruppo vocale Eloha. Nello stesso anno entra nelle hit parade di San Paolo e Rio de Janeiro con il singolo Quando. Vedrai la mia ragazza, canzone di Little Tony, arrivando al decimo posto della classifica nel paese. Il complesso di supporto erano i Jet Blacks e il gruppo vocale Os titulare Sedor Ritmo. Da allora è diventato parte del movimento della Joven Guarda e ha cominciato a partecipare al programma di Roberto Carlos Braga, che lo chiamava nelle presentazioni di Io Italianissimo. L'Italianissimo. L'Italianissimo. Nel 1965 ha inciso il singolo ogni mattina. Con la band di accompagnamento de Jordans e con arrangiamenti del maestro messicano Poco. Il brano ha anche occupato i primi posti delle classifiche brasiliane ed è stata acquistato dalla. B. 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 C. di Londra per essere distributo nel Regno Unito. Negli anni successivi pubblica brani come Nessuno mi può giudicare. Canzone di Caterina Caselli partecipante al Festival di Sanremo 1966. Bisogna saper perdere. Con arrangiamenti del maestro brasiliano Edmundo Peruzzi. Il mondo non è per me. Con produzione di Tony Campello, fratello di Celli Campello, e altri successi che hanno segnato gli anni 60 in Brasile. Nei primi anni 70, già come artista consacrato, ha cominciato a recitare in film musical come attore e cantante. Nel 1971 ha composto la colonna sonora del film di Renato Aragao e Dede Santana, Aila dos Pacheras, per la reggia di Fauzi Mansur, di cui ha anche composto la colonna sonore. Ha anche composto la colonna sonora e recitato nel primo film del regista brasiliano Carlos, Reichenbach, Corrida en busca do amor. Ha recitato come attore e cantante nell'edizione brasiliana dell'opera Rock Jesus Christ Superstar, di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Con la regia del drammaturgo russo Eugenio Kuznet, ha composto colonne sonore per oltre 30 film e novelas, tra cui la canzone Passion Love e Tim, usata per la novela di Red e Globo Fogo Sobre Terra interpretate da di diversi artisti come Altemar, Dutra, Moacir Franco, Eduardo Assad, Joelma e molti altri. Ha composto anche la colonna sonora del primo film di Vera Fisher, Sinal Vermelo As Femme As, eseguita dalla band Magnetic Sounds. Nel 1973 ha fondato la casa discografica Central Park Records, che ha avuto una grande importanza nella produzione musicale degli anni 70 e 80, lanciando artisti come Dave McAleen, Edward Cliff, Theo Azevedo, che è stato premiato con il Latin Grammy nel 2013, e molti altri cantanti regionali e del movimento dei falsi inglesi che ha segnato l'industria musicale brasiliana degli anni 70. Dave McAleen ha venduto oltre 1 milione di copie in America Latina ed Edward Cliff ha conquistato L'Europa con Knights of September, scritto da Dick Danello, che è arrivata nei primi posti di vendita in Italia ed è stata trasmessa dalla BBC. Nel 1982 ha iniziato il programma radiofonico Parlando d'Amore, pubblicando e divulgando la canzone popolare italiana in tutto il territorio brasiliano. Il programma è stato diffuso da numerosi emittenti tra cui Rdio Capitol e Rdio Gazzetta, e ha vinto numerosi premi assegnati dalla Cammara Municipale di San Paolo come un mezzo di promozione della cultura italiana all'estero e come trasmissione di arricchimento della stessa cultura paulista. La storia del programma è stata oggetto di ricerca di un gruppo di accademici di comunicazione sociale della USP. Negli anni 80 pubblica i dischi Parlando d'Amore e l'italiano, registrati a Milano e a Roma e distribuiti in Brasile. Comincia a presentare su Rede Manchete le edizioni annuali del Festival di Sanremo, facendo conoscere in Brasile i cantanti Eros Ramazzotti. Laura Pausini, Amedeo Minghi, Andrea Bocelli e altri artisti italiani di fama internazionale. Nel 90 prosegue con il programma radiofonico e viene assunto da Costa Crociere per preparare crociere tematiche di musica italiana nella costa brasiliana e del Sud America. Si occupa di ricerca musicale per vari progetti di rede globo, tra cui la Nove e la Terra Nostra. Uno dei più grandi successi della tv brasiliana. Nel 2004 pubblica l'album Cuore Italiano e, nello stesso anno, viene premiato dall'Accademia Brasiliana di Arte, Cultura e Storia per il suo contributo artistico al paese. Nel 2009 pubblica l'album Nel Cuore e nell'Anima. Registrato negli studi di Milano, Udine e Firenze, riunendo brani originali e un duetto con Edoardo De Angelis. Nel 2013 pubblica il disco rock italiano, che rende un omaggio agli anni ruggenti della musica italiana. Nel 2014 riceve il premio della Orde Medos Musicos do Brasil per i suoi 50 anni di carriera e va in tour con la band The Clevers per commemorare l'anniversario della Joven Guarda, cantando sulla costa favolosa, al Club Oms e alla Virada Cultural di San Paolo. Grazie a tutti.